Vogliamo una città pulita, una città nuova, diversa da quella realitata fino a oggi. L'11 di gennaio, appunto sabato mattina in Piazza della Resistenza, faremo un sit-in. Abbiamo deciso di promuovere questa manifestazione pubblica per chiedere alle organizzazioni sociali, ai comitati, ai cittadini, agli studenti di partecipare insieme a noi. Uno, per chiedere lo stop all'ampliamento delle discariche e la discarica di Columbria, tutte le discariche nella nostra realtà. Due, di avviare definitivamente veramente una raccolta differenziata, perché siamo l'ultima città della Calabria, forse nel mezzogiorno, in termini di percentuale in relazione alla raccolta differenziata. Tre, vogliamo avviare una serie di attività che riguardano il riciclo, il riuso. Chiederemo, come abbiamo fatto negli anni precedenti, la realizzazione di una vera bonifica dell'ex area industriale e il miglioramento complessivo della qualità delle vite della nostra città. Ma a chi lo chiederete? A Crotone abbiamo un commissario perfettiso. Vi riferite alle prossime regionali? Lo chiederemo alla Regione Calabria, lo chiederemo al commissario perfettiso, lo chiederemo ai prossimi amministratori comunali, lo chiederemo agli amministratori provinciali. In realtà noi questa domanda la stiamo facendo alle istituzioni da almeno 15 anni e da 15 anni queste domande vengono disattese. Quindi noi continueremo a chiederlo alle istituzioni e alle autorità competenti, ma lo potremo fare soltanto se la cittadinanza e la comunità sarà insieme a noi e costruirà insieme a noi un movimento che possa obbligare le istituzioni ad adempiere a queste attività che fino ad oggi non hanno avuto nessun riscontro, nessun risultato. Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!